Espansione TV è passata dal canale 19 al canale 14 del telecomando, un'evoluzione all'interno del percorso verso la nuova TV digitale che ora entra nel vivo, una migliore qualità audio e video e una maggiore offerta di servizi. Nell'ambito di questo processo, Espansione TV, come detto, ha cambiato numero sul telecomando scalando 5 posizioni, ora è sul 14 del digitale terrestre e arriva nelle case dei telespettatori in alta definizione, con una qualità d'immagine ancora più elevata e nitida. Per continuare a guardare TV bisogna eseguire la sintonizzazione automatica del televisore, un processo rapido che si avvia dal menu o dalle impostazioni. Una volta terminata la scansione, il televisore riconoscerà automaticamente TV sul 14 in HD. Va precisato che non tutti i televisori, specie i più datati, sono compatibili con l'alta definizione. Perciò il Ministero dello Sviluppo Economico ha previsto un bonus sia per l'acquisto del decoder, sia per la rottamazione e la sostituzione della TV, rispettivamente di 30 euro con Isee familiare fino a 20.000 euro e fino a 100 euro senza distinzione di reddito.